Ciao a tutti, sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di comunicazione nel mondo del turismo. Oggi mi voglio focalizzare sul marketing generazionale e in particolare voglio parlare dei baby boomers. Quindi parliamo delle persone che vanno dai 56 anni in su. Perché vi voglio parlare principalmente di questa categoria, questa fascia d'età? Perché adesso ci stiamo avvicinando all'altissima stagione, le camere di hotel e villaggi inizieranno quasi a vendersi da sole. E' ovvio che senza comunicazione è un po' difficile, però calcolate che se adesso entriamo in un periodo dove la domanda è molto più alta dell'offerta e infatti i prezzi iniziano anche ad alzarsi. Però dopo questo periodo torneremo alla bassa stagione. Ci sono delle strutture che a settembre lavoreranno ma verso metà settembre chiuderanno, c'è chi invece lavora tutto l'anno. E quindi questo periodo di bassa stagione lo deve sfruttare il più possibile. Ebbene, come facciamo a sfruttare il più possibile questo periodo di bassa stagione? Se il vostro target in generale magari sono coppie, famiglie con bambini, ecco loro non li dovete dimenticare semplicemente perché stiamo andando verso la bassa stagione, ma dovete avere delle accortezze nella comunicazione e puntare magari ai baby boomers. E perché vi parlo proprio di loro? Bene, a differenza magari di noi millennials, loro hanno due caratteristiche fondamentali che sono davvero importanti nel marketing turistico. Hanno il potere d'acquisto e soprattutto hanno il tempo in quanto sono in pensione. Quindi pensate a voi stessi oppure come è successo a me in passato, in alcuni periodi della mia vita, a causa del lavoro di mio marito io potevo fare le ferie in una settimana specifica di luglio, basta, non era possibile fare altro. Adesso per fortuna abbiamo più di flessibilità oppure ci sono delle persone che a causa della chiusura delle aziende nel periodo estivo le ferie se le possono permettere solamente ad agosto. Quindi quando vanno in vacanza pagano un occhio della testa. I baby boomers invece hanno il potere di acquisto, ma allo stesso tempo possono permettersi di decidere quando andare in vacanza e quindi sfruttare quei periodi come giugno, periodi di bassa stagione, e settembre, magari andando anche verso ottobre e novembre. Ripeto, dipende dalla struttura. Il discorso che vi sto facendo vale in generale per quasi tutte le tipologie. Perché se avete adottato delle grafiche magari dove si puntava le famiglie con bambini perché quello è il vostro target, in questo caso magari non mettete loro come principali protagonisti delle vostre offerte. Ma allo stesso tempo non pensate che stiamo parlando di vecchi decrepiti. Come vi dicevo i baby boomers sono una fascia d'età che va dai 56 anni in su. Sarò io che sono fortunata, che ho una mamma e dei suoceri super giovanili, però adesso non vi dovete immaginare il vecchietto che sta a casa lì a giocare a carte. Vedete come viaggiano, vedete come vanno a ballare, che forse hanno addirittura una vita mondana più attiva della mia. Che sono invece vincolata da magari scuola, sono vincolata dal lavoro e non mi posso permettere una determinata flessibilità come la possono avere loro. Ci tengo a fare un piccolo disclaimer su questo video perché è ovvio che io non faccio di tutto un'erba, un fascio. L'unica cosa, calcolate, io mi occupo di community management nel settore turistico. Potete immaginare quante persone scrivono sulle pagine delle strutture ma la gente non arriva a fine mese, ma che vacanze si deve fare, la gente non va più in vacanza. Io capisco che ci sono persone che effettivamente fanno fatica ad arrivare a fine mese, così come ci sono dei pensionati, dei baby boomers, che prendono delle pensioni che sono veramente ridicole. Però non tutti gli italiani stanno in questa situazione, quindi ci sono dei baby boomers che si possono assolutamente permettere di andare in vacanza. Quindi non vedete solamente l'aspetto negativo, non pensate che tutti i pensionati stanno a casa con una pensione di 400 euro al mese, ma pensate che invece ci sono altri che hanno un reddito più che normale che li consente di fare delle vacanze. Quindi come vi dicevo, ho fatto questo piccolo disclaimer, vi dicevo non immaginate questi baby boomers come vecchi decrepiti, ma anche loro nel caso del villaggio vogliono l'animazione, vogliono anche loro buon cibo, anche loro vogliono andare in vacanza per divertirsi, vogliono la pulizia delle camere, vogliono tutto quello che desidera il vostro target principale in pieno agosto, lo vogliono anche loro a settembre. Però che cosa dobbiamo fare? Come vi dicevo, dobbiamo giocare con la comunicazione, quindi se voi puntate alle famiglie con bambini, quindi per il vostro villaggio, avete fatto una comunicazione parallela, dove avete fatto vedere, sapete, i momenti della vita del villaggio, dove ci sono i quindicenni che si scatenano con la discoteca? Magari puntate ad altro se state cercando di raggiungere questo target. Non vi sto dicendo la partita a carte, che magari vi rispondo alla partita a carte, ma la vado a fare a casa, ma quello che invece potete far vedere è una serata danzante, lo spettacolo che sta organizzando la vostra animazione e così via. perché vi sto parlando di comunicazione parallela, perché a volte si pensa che gli unici post che noi dobbiamo fare è dire quanto siamo figli, quanto siamo belli, pam, ecco la mia bella offerta, e mi raccomando, vieni a settembre da me perché io ho poche camere. No, tra l'altro non vi dovete ricordare all'ultimo, ma io vi sto facendo questo video a luglio, perché è una cosa che dovete pianificare, siete voi che sapete quando è un periodo di bassa stagione. Ad esempio, a me capitava in una struttura che il settembre non era un periodo di bassa stagione, semplicemente perché c'era un convegno che me la faceva prolungare la stagione, quindi io fino a fine settembre avevo un determinato tipo di prezzi e avevo un determinato tipo di pubblico. A me effettivamente la bassa stagione, nonostante fossimo in città, iniziava ad ottobre. Quindi ricordatevi, se avete delle problematiche, una bassa occupazione, più che altro nel periodo ovviamente di bassa stagione, dovete cercare di capire dove sto sbagliando oppure come faccio ad attirare più persone. Se state facendo una comunicazione fai da te, mi raccomando, se fate le sponsorizzate, evitate di spendere soldi mettendo tutti, tutta Italia, eccetera, eccetera, ma cercate di prendere una fascia di pubblico ben precisa. Mi raccomando, con il copy, con le grafiche che andate a scegliere, perché tutto va a influire. La grafica con il bambino sorridente, la famiglia al mare, che funzionava ad agosto, magari a inizio settembre non funziona più. Quindi spero di avervi dato con questo video qualcosa su cui riflettere e mi raccomando, se volete una consulenza, potete contattarmi qui in descrizione e trovate tutti i miei recapiti. Io intanto vi aspetto nel prossimo video e vi saluto tutti. Besos!